colonie da belle poc il cavalluccio per i bambini la mette da collezione foto in bianco e nero che ricordano la stazione il borgo che può lo stesso salone di adriano è diventato ormai un cimelio a distanza di 50 anni dopo la dismissione del presidio della polper il barbiere è rimasto da solo nella stazione ora alle 18 non c'è più nessuno aperto adriano e anche io chiudo il salone prima purtroppo la politica è questo molto è stata fatta una politica sbagliata da anni sia per la rocchetta volgo ferrovia si sente un po più insicuro dopo la soppressione del presidio penso di sì perché almeno prima c'era qualche cosa già chiedeva sicurezza sono vent'anni questo quadriano come vede la stazione adesso senza il presidio di polizia per me ci voleva la polizia anche perché in questo settore qua a livello rionale non ci sta polizia non ci sta neanche un vigile mentre succedeva qualche cosa qui avanti si scappava nella stazione chiamare un poliziotto e ti facevi tutelare adesso dove si va se uno si appiccica con uno dove va quanti anni l'hai stato qua 57 anni e quindi è rimasto l'unico presidente prima chi c'era c'erano altri non c'era nessuno sembri solo io quindi adesso comunque bene o male aprirai un occhio in più per forza e per forza ti senti un po più solo e come no era una compagnia la polizia la polizia manca la polizia era quella che era adesso a che ora che te ne vai adesso meno che all'una perché meno che sei e mezzo perché manca fiducia non c'è persona e loro ha paura questa guarda la polizia era una sicurezza veramente veramente sono cambiati i tempi no sono cambiati i tempi manca la sicurezza non è invece va bene adriano ci fa piacere insomma che almeno sei rimasto tu come si dice fin quando c'era la persona resta il piacere qual è però se ci fosse altre persone ci fossero i treni a magari mettersi i treni mettersi qua manca tutto ma i treni passano perché si era parlato di una nuova moglie si era parlato ma i treni niente